Io qui ho un bellissimo libretto, un vecchissimo libretto, di un testo scritto all'inizio del 1900 che parla di come i cristiani hanno imposto la miseria, come hanno fatto quei pueblas per imporre la loro religione nei primissimi secoli. E ve lo leggo, devastazioni guerresche, vi ricordo che il linguaggio è quello dell'inizio del 1900, che avevano sparso la miseria e l'orrore nella sua patria, chiamavano il poeta ai fondi aviti. Non è più lecito, egli dice, più oltre ignorare quelle diuturne rovine, l'indugio del soccorrere le ha moltiplicate. Dopo i fieri incendi nei dilaniati fondi, ora è tempo di far sorgere almeno capanne da pastori. E dopo questo primo accenno di desolazione, un altro più grave ci aspetta. Gli stanchi degli amplessi della cara Roma, siamo abbattuti e ne tarda il partire. Scegliamo la via di mare, giacché le vie piane di terra sono inondate dai gonfi fiumi e sono aspre le erte dei monti. Dopo che la pianura etrusca e la via Aurelia sono state devastate col ferro e col fuoco dalle gotiche armi e sono state distrutte le case nei campi e di ponti sui fiumi, meglio affidare le vele all'incerto mare. Sono brevi tratti ma ci presentano uno spettacolo di squallore e per tutto il carme qua e là ricompare questa triste nota, deserto, solitudine, barbarie, dove erano prima ville aridenti e floride città. E tanto splendore di campi e tanto fervore di opere umane, soprattutto questo è passato un soffio distruttore. O dov'è la più vantata sicurezza di tutte le strade dell'impero, da Roma capitale fino agli estremi confini del mondo? Poco più di due secoli prima un oratore greco diletto a Marco Aurelio, Elio Aristide, così diceva in una magnifica invocazione a Roma Ora, elleni e barbari possono girare ovunque senza difficoltà, fuori dal loro paese, portando secco le proprie sostanze, come se andassero da una patria in un'altra. Ne sono terribili le porte cilicie, nelle strette e sabbiose vie attraverso l'Arabia e l'Egitto, Nei monti impraticabili, negli smisurati torrenti, nelle selvagge tribù, per essere sicuro basta essere cittadino romano, o meglio, suddito vostro. Il detto omerico, la terra è comune a tutti, voi avete fatto realtà, avete misurato tutta la terra, avete gettato ovunque i ponti sui fiumi, costruite le vie dei monti, coperti deserti di popoli e tutto mobilitato con ordine e la disciplina. Eppure, pochi anni prima, di Rutilo, Claudiano ancora vantava che alla sapiente politica di Roma si dovesse la facilità dei viaggi e lo stringersi di tutti i popoli una famiglia sola. Lo straniero ormai è ovunque, come in casa sua, è facile mutare sede, è un gioco ormai, veder tule e penetrare nei recessi una volta orrendi, possiamo abbeverarci alle fonti del Rodano o a quelle dell'Oronte, siamo tutti una sola famiglia. Qui il poeta cortigiano penneggiare a stilicone non ha voluto accorgersi dei mali che lo circondavano, vi ricordo che stilicone è un macellaio cristiano, la moglie di stilicone ruberà la collana ad Era e riceverà la maledizione dell'ultima vesta di Era che, maledicendo quell'atto che la moglie di stilicone, praticamente il sacrilego che portava, ha fatto in modo che gli altari romani non fossero mai più ritrovati finché il clero comandava Roma. In effetti quegli altari sparirono e furono ritrovati dopo l'unità d'Italia. Bene, stilicone era un grande macellaio, sua moglie ha perso anche la testa, si è messa la collana ad Era Era il collo, strappandola alla Dea, ma ha perso la testa, perché fra cristiani non è che se la passavano molto bene. Bene, il poeta cortigiano penneggiare a stilicone non ha voluto accorgersi dei mali che lo circondavano, ha attribuito agli inni di altri tempi l'ispirazione al precognom. Magnifico, ma quello stesso stilicone, il cui secondo consolato egli celebra in questo carme, era condottiero di orde devastatrici e degli stesso dissanguatore di popolo, e proprio nei tempi suoi, i tempi che precedettero immediatamente quelli di Rutilo, le pubbliche condizioni si fanno quanto mai miserevoli, a tal segno che piuttosto che avventurarsi a lunghi viaggi, non era prudente ad un patrizio passeggiare sulla via Appia. Simmaco, nello scrivere ad un amico, lo avverte che egli stesso non può uscire fuori le porte di Roma, perché la campagna è infestata dai malviventi. Vi ricordate chi è Simmaco? Ve ne ho parlato qui, è quel senatore romano che difese la statua della vittoria e che supplicò l'imperatore di riportare la statua della vittoria al senato e venne sputtanato, infamato, deriso, sputato da più infami cristiani che questa terra abbia visto. Bene, questo Simmaco, nello scrive ad un amico, lo avverte che egli stesso non può uscire fuori le porte di Roma, perché la campagna è infestata dai malviventi. La corrispondenza di Simmaco ci dà anche, sulle condizioni del tempo suo, ragguagli preziosi. Si tratta di un uomo buono e prono a vedere il bene dappertutto e a considerare con largo sentimento di indulgenza tutte le cose umane. Egli, anzi, loda il suo tempo, nel quale l'istruzione diffusa del merito dischiude la via agli onori, eppure con tanta inelinazione benevola per il mondo, qualche volta pare che una nube gli oscuri la fronte e una esitanza angosciosa gli turbi l'anima e gli vede la pubblica fortuna esausta il fisco divoratore di tutto, la terra non più produttiva. Se avesse avuto anima più ardente o meno indurita dalla lunga pratica del mondo ufficiale, avrebbe forse trovato negli sdegni generosi accenti di vero e vehemente dolore quali li trovò il nostro rutilio che parve sentire come un ultimo fremito di romana grandezza e se avesse avuto sguardo più profondo avrebbe visto che ben più alta era la cancrena roditrice ed avrebbe avuto il presentimento della prossima fine, quel presentimento che faceva dire a Gerolamo come sul principio niente fu più forte, più saldo dell'impero romano, così ora sul finire delle cose niente più debole, quel sentimento che a Claudiano stesso fermava l'estro magnificatore della romana potenza e gli strappava dall'animo questo grido di angoscia. Ahimè, dove caddero la forza del Lazio e la potenza di Roma? A poco a poco siamo ormai diventati l'ombra di noi stessi. Ebbene, quello che è accaduto ai Pueblos accadde a Roma ed è accaduto ad ogni popolo dove le bande assassine, i criminali, i missionari cristiani sono andati a distruggere le relazioni con gli uomini, hanno macellato, ucciso, massacrato per il gusto di massacrare. Vi ricordo che i missionari cristiani in Africa proibivano di piantare le zucche alle popolazioni indigene per costringerle alla monocultura e l'indigeno che piantava zucca veniva condannato a morte. Questi sono i macellai cristiani che hanno ridotto mezzo mondo alla miseria. Quando parlate di un missionario ricordate che è un assassino, un assassino per scelta, un vigliacco, un porco, un verme, uno che stupra bambini, uno che distrugge le culture, che distrugge i popoli. E non fatevi prendere dalle immagini che pone perché quella miseria l'ha costruita lui e lui è responsabile di quella miseria, è responsabile del traffico di schiavi, è responsabile dello spazio di eroina, è responsabile della diffusione dei lights in Africa. Questi sono i missionari cristiani, assassini, 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 esattamente come il loro Dio, il macellario di Sodoma e Gomorra, esattamente come il loro profeta, il pazzo di Nazareth. E da oggi vi ricordo che continueremo ad andare avanti con il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Questo pezzo che vi ho letto oggi dal Gesù e i farisei lo trovate chiaramente su internet. Cioè, su internet c'è tutto il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Questo sul mio sito di Tripod lo scaricate. State attenti che è molto corposo, se vi fate una stampa diretta vi mangia un sacco di carta. Sull'altro sito invece, quello di Geosites, quello che tratta il male, che lo potete trovare anche digitando Federazione Pagana, andate sul motore Google, digitate Federazione Pagana, lo trovate. Là invece ci sono solo alcuni pezzi del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E sono esattamente quei pezzi, tipo il pazzo di Nazareth, no, il Gesù di Nazareth, il bastonatore che non si può difendere, e la teoria della sottomissione in Giovanni, che sono funzionali al discorso di operazioni per distruggere il sistema sociale nel quale viviamo, perché sono assieme a quello che è il crogiolo del male, perché servono di spunto per vedere da dove arriva la distruzione dell'uomo, il distruggere l'uomo, il ridurre l'uomo a niente davanti alla vita. Mentre invece sull'altro sito, quello su Zoom, trovate le sfide, cioè trovate la pederastia di Voitila, cioè Voitila praticamente pratica la pederastia, cioè per il nostro codice giuridico, il capo dei pederasti, il capo dei pederasti cattolici che vengono condannati in giro per il mondo, è Voitila, e Voitila non ha mai fatto niente per condannare, cioè non li ha mai cacciati da Chiesa Cattolica, perché loro agiscono ad immagine del suo Gesù, cioè il Gesù di Nazareth è un pederasta, e Voitila non può cacciare i preti che praticano la pederastia, perché questo sarebbe un condannare il suo Gesù. Trovate questo, trovate il pazzo di Nazareth, e trovate alcuni pezzi che fanno parte invece delle cose necessarie da rimuovere all'interno di questo sistema sociale per riuscire a costruire il futuro. Bene, con questo per oggi è tutto. Vi ricordo che quando arrivano i missionari, quando arrivano i cristiani, la civiltà o la civiltà reagisce in maniera estremamente forte, estremamente dura, o la società viene distrutta. Se le organizzazioni dei Taipei e dei boxer in Cina non avessero reagito come hanno reagito davanti alle mattanze, ai massacri, allo spaccio dell'eroina dei missionari cristiani, probabilmente oggi in giro per il mondo ci sarebbero 50-60 milioni di prostitute cinesi e ci sarebbero centinaia di migliaia di bambini cinesi ridotti alla fame. Questo per consentire ai missionari cristiani di far vedere come sono bravi loro a gestire la miseria. Ricordatevelo bene questo. Quando guardiamo degli episodi del passato cerchiamo anche di chiederci cosa sarebbe avvenuto se e il cosa sarebbe avvenuto se serve anche per stabilire il prezzo che noi oggi avremmo dovuto pagare se sapete qual è il prezzo che avremmo dovuto pagare se ci fossero state 50 milioni di prostitute cinesi nei paesi occidentali e altrettanti uomini che cercavano lavoro con un'altrettanta percentuale di criminalità. Sapete come sarebbe stata ridotta l'Europa? Fatevi un po' due conticini in base a quello che conoscete oggi e pensate quanto siete stati fortunati che i taipei e i boxer siano riusciti a dare quella lasagnata ai missionari cristiani. Pensateci un attimino cioè se nel mondo c'è miseria non è che noi stiamo bene perché tanto là c'è miseria ma paghiamo noi anche perché quella miseria si riversa su di noi e i missionari cristiani gli assassini, i porci, i maiali vanno nei vari popoli per costruire la miseria perché se l'Africa non si mette a usare massicciamente il preservativo l'AIDS ce lo troviamo anche qui e già ce l'abbiamo ancora al quadrato non dimentichiamoci su queste cose quello che succede in Nuova Zelanda viene a interferire su quello che succede in Italia quello che succede in Cina viene a interferire su quello che succede anche nei nostri paesi non è che siamo staccati nel mondo questa mondializzazione di quello che sono i traffici di quello che sono le relazioni fra gli uomini ci coinvolge a tutti ma non ci coinvolge solo dal punto di vista spaziale ma quello che hanno fatto i missionari di 200-300 anni fa in Africa e in Asia si ripercuote oggi e adesso e se non vengono fermati questi missionari questi assassini questi criminali questi delinquenti continueranno a devastare i sistemi sociali anche per i vostri figli perché il loro scopo è quello di spacciare la roina trafficare gli schiavi trafficare in carne umana questo ha il loro scopo mantenere la miseria mantenere la distruzione dei popoli questo è il fine dei missionari cristiani e se non verranno fermati ora domani saranno i vostri figli a pagarlo lo scotto di questi miserabili assassini perché di assassini si tratta? gente che va a distruggere i popoli non solo come i pueblos 100 milioni furono imbaccellati dai cristiani dell'America Latina 100 milioni sapete quanti sono stati ammazzati nei campi stranmio nazisti? si parla di 6 milioni di morti bene i missionari cristiani hanno avvazzati 100 milioni è solo ancora là per distruggere, annientare, saccheggiare altri popoli assassini 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 come il loro Dio va bene e continueremo con Gesù di Natale l'infamia umana adesso andiamo avanti ancora certo lo so i cristiani vorrebbero proteggere il loro diritto di assassinare le persone ma questo si chiama essere assassini ok vi ricordo sempre che su internet trovate tutto ho visto che i siti sono anche piuttosto frequentati ultimamente sarà anche l'effetto di un bellissimo film di cui parliamo adesso è tipa che sono stato a vederlo si chiama Harry Potter io vi consiglio di portarvici anche a tutti i ragazzini ma più che altro consiglio agli adulti per andare a vederselo di magari proprio si vergogna di andare a vedersi Harry Potter di cercare magari non so un nipotino da portare a vedere il film del maghetto io l'ho visto e devo dire che mi ha entusiasmato non è che mi abbia entusiasmato perché sia chissà che cosa in fondo è solo una storia fantastica né più né meno ma è una storia fantastica un po' particolare prima di tutto in questa storia fantastica non esiste una provvidenza esterna l'uomo esterna alla persona che tende a sottomettere la persona cioè la persona non è uno schiavo non è un servo non deve supplicare un dio le persone questi maghetti cioè questi personaggi hanno tutti dei poteri magici ma i poteri magici li esercitano all'interno della loro esistenza cioè come se dicessimo tutti gli uomini hanno le gambe e usano le gambe per un conto è che uno usa le gambe e si alleni e cammini bene e un altro conto è che una persona ringrazia il dio padrone per avere le gambe sono due condizioni assolutamente diverse e assolutamente opposte poi c'è un'altra cosa ancora in questo film innanzitutto insegna le persone a contare su se stesse noi dentro abbiamo un sacco di potere magico abbiamo quel potere magico che ci consente di affrontare la vita quel potere magico che sorge con noi quando noi usciamo dalla vagina di nostra madre e diventiamo delle persone e lo sviluppiamo per tutta la nostra vita solo che per sviluppare quel potere magico tutta la nostra vita è necessario che noi riconosciamo noi stessi che siamo noi i responsabili della nostra vita siamo noi che siamo in grado di essere responsabili di quello che facciamo dobbiamo imparare a chiamare le cose con il loro vero nome e dobbiamo non farci ingannare e in questo film in questo Harry Potter c'è anche questo c'è anche la persona che non deve farsi ingannare e in effetti c'è una leitmotiv che attraversa tutto il film che l'aspetto tende ad ingannare cioè non fermatevi mai all'aspetto all'apparenza delle cose ma guardate le azioni guardate cosa fa la cosa qual è la rappresentazione di quella cosa e non fidatevi dell'aspetto esterno e anche questa è una grossa lezione cioè permette alle persone di avere degli idee e avere degli input ieri io non ho fatto la signastampa negli ultimi due giorni ma ieri o l'altro ieri adesso mi ricordo bene ho visto una notizia su televideo una notizia che è sparita quasi subito in realtà quella notizia diceva più o meno questo analisi dei psicologi di tutto il mondo ha rivelato che i bambini i ragazzi che non crescono con i miti e con le fiabe sono da adulti insicuri sono hanno propensione a delinquere hanno propensione all'insicurezza hanno propensione alla soprafazione e in quella notizia di televideo suggerivano di raccontare le fiabe ma essenzialmente raccontare le storie degli antichi miti le storie dei popoli e le storie degli antichi miti perché questo? perché in questo tipo di favole cioè le favole dei popoli più che altro e gli antichi miti che possono essere specialmente i miti greci i miti della nostra area mediterranea c'è l'insegnamento c'è l'input c'è la nozione c'è quello che ci serve per affrontare la vita se voi leggete le favole della piccola che sono favole popolari trasformate vi accorgete che ogni favola ha un insegnamento cioè ogni favola ha un nocciolo prezioso che diventa patrimonio di conoscenza della persona certo se uno si legge una favola non so come non so adesso mi mette una del nome mi sfaga come si legge una favola in cui c'è un insegnamento quell'insegnamento è mascherato della favola se si legge barba blu non so quello di mettere il naso dove non deve mettere il naso quell'insegnamento resta e quell'insegnamento dice che se tu vuoi mettere il naso là dove non dovresti mettere il naso devi attrezzarti per farlo cioè devi armarti per farlo e questi valen per tutte le favole per cui il bambino crescendo con questa tipologia di favole che sono le favole popolari i miti antichi le favole eroiche praticamente accumula un patrimonio di conoscenza che apparentemente favolistico in realtà sono delle nozioni con cui va ad affrontare la vita per esempio nella storia di Harry Potter il fatto di non farsi fregare dalle apparenze cioè non dare il giudizio sulle persone dalle apparenze che queste esprimono beh è fondamentale nella vita di qualsiasi persona cioè qualsiasi bambino deve crescere in modo tale da non sparare un giudizio sulle apparenze mentre invece di guardare le mani e vi ricordo che tutto il cristianesimo invece impone ai bambini proprio di fermare la loro attenzione sull'apparenza c'è un episodio di questo che è nella cinematografia a un certo punto venne fuori tutto un dibattito se gli anni 30 gli anni 40 nella cinematografia americana e si chiamavano dei giudici e dei giudici stabilirono i caratteri fondamentali dei personaggi nei vari film dove il cattivo doveva essere brutto e doveva dare l'idea allo spettatore di repellente mentre il buono doveva essere bello la donna fatale cioè la donna di un certo tipo doveva essere in un certo modo e l'altro in un altro modo cioè praticamente si cercava di creare un simbolismo e quando quel simbolismo veniva fagocitato dal perso cioè il bambino cresceva con quel simbolismo anziché guardare le mani guardare le azioni delle persone quello che loro facevano e giudicare da quello che loro facevano dava un giudizio sulle apparenze e sulle apparenze costruiva le proprie strategie beh noi abbiamo visto uno che ha vinto le elezioni su questo il Berlusconi che con le sue televisioni giocava addirittura a mettersi la calza trasparente per farsi vedere più bello insomma in televisione abbiamo visto che effetto ha fatto cioè nel senso che l'incapacità delle persone di guardare le mani di leggere i concetti di vedere come i concetti si esprimono nella vita è stata ottenuta distruggendo l'attenzione bene le favole hanno questa questa forza quella di immetterne a persona dei concetti ma favole come Harry Potter cioè questa qua di questo film o altre favole per esempio non so tipo guerre stellari per esempio hanno la capacità di prendere un certo numero di concetti e di esprimerli dietro a una storia però lo spettatore legge quella storia vede quella storia con un grosso senso di emotività con un grosso senso di partecipazione con una grossa espressione di sentimenti di emozioni cosa succede? succede che l'insegnamento entra nella sua struttura emozionale per cui accede una parte ancora più profonda del proprio cervello l'esempio di guerre stellari non ve l'ho tirato fuori a caso perché in Inghilterra c'è stato il censimento e nel censimento inglese si chiede anche la religione in cui una persona appartiene bene i film di guerre stellari hanno avuto un tale impatto emotivo nella popolazione che la società che faceva il lavoro di statistica ha dovuto alla voce religione inserire una nuova religione si chiama Jedi perché un sacco di persone inglesi si identificano con il modo espressivo degli Jedi di guerra stellari questo è per farvi capire qual è l'importanza che assumono certe storie certe favole quando vengono rappresentate a livello emozionale specialmente quando queste favole non hanno dietro non hanno dietro nessuna spinta alla sottomissione all'accettazione al fatalismo alla supplica mentre invece sono cose che un uomo una persona la sfida della vita deve comunque affrontarla ci sono dei problemi bene questi problemi vanno risolti io quali capacità ho? ho due gambe ho due braccia ho la capacità di pensare bene con questi strumenti vado ad affrontare i miei problemi e se i problemi non riesco ad affrontarli cerco di superarli di aggirarli o di vedere un altro ordine di problemi ma io posso affrontare i problemi solo perché ho degli strumenti e questi strumenti vado a coltivarli io sono e mi rappresento nella vita bene tutto il film di Harry Potter in realtà ha questa ha questa particolarità e questa particolarità ha fatto incazzare a sangue quello che sono gli assassini assassini come Gabriele a morte un esorcista perché? perché in Harry Potter c'è la firma di Satana che cos'è per un cattolico per uno come a morte un imbecille perché è un imbecille oltretutto proprio ignorante vigliacco farabuto delinquente uno che si apprende con i bambini effettivamente è uno dei personaggi squallidi infami sporchi ce l'ha perché Harry Potter non prega Harry Potter non si sottomette non c'è la provvidenza divina non striscia in ginocchio e che cosa fa Harry Potter o cosa fanno tutti gli altri? esprimono la forza che hanno dentro e con la forza che hanno dentro cercano di vivere la vita al loro meglio e questo è satanismo cioè per un imbecille come Gabriella Mort un imbecille lo sto dicendo nel modo più spregevole che esista dal punto di vista del personale perché non solo è un assassino perché è un cristiano ma è anche un imbecille dal punto di vista culturale e di disprezzo per la vita disprezzo per le nostre leggi disprezzo per la costituzione e lui interessa dire che questo è Harry Potter è un satanista questo qua è stato pubblicato dalla Repubblica del 6 dicembre del 2001 vi ricordo che gli esorcisti come Harry Potter sono responsabili di omicidio qui nel Trevigeno fate un po' voi per vedere a che livelli di aberrazione di infamia questa gente decade invece io l'ho visto questo film e vi assicuro che è un film bello da vedere cioè nel senso che effettivamente allarga il cuore come storia non è niente di particolare il solito per il pettone diciamo così dal punto di vista sentimentale la storia del bambino che va a fare certe cose però dal punto di vista degli input degli input che dà cioè degli elementi che dà alle persone per affrontare la vita sono qualcosa secondo me fatti in modo straordinario e arrivano ad incidere anche sull'emotività delle persone per cui il ricordo di alcuni insegnamenti non viene dimenticato ed ha la capacità proprio di costruire la crescita cioè di portare le persone a crescere cioè imparare delle cose a far proprio delle cose a cui non avevano pensato e penso che per un film sia già una cosa eccezionale va bene un'ultima cosetta prima di arrivare le telefonate vi ricordate giovedì scorso giovedì scorso vi avevamo annunciato qui in radio che erano stati arrestati due preti e una suora per avere truffato per aver truffato un anziano questo nel trevigiano ora vi ricordo che i preti e la suora sono stati pedinati dai carabinieri cioè non è che si sono si sono inventati così di arrestarli sono spariti duecento milioni i tre sempre secondo i familiari avrebbero approfittato delle sue condizioni per costringerlo a fare donazioni molto cospicue all'opus Maria Regine circa duecento milioni tutti i suoi risparmi esattamente come la Vanamarchi no? le indagini sono andate avanti per mesi coordinate dal pubblico ministero Silvia Ferrari mentre i carabinieri tenevano sotto controllo i movimenti dei tre religiosi il magistrato ha ordinato verifiche bancarie da queste sarebbe emerso che alcune delle donazioni sarebbero finite nei conti correnti intestati alla non sarebbero finite nei conti correnti intestati alla congregazione di Pieve di Soligo ma direttamente sui conti personali dei religiosi non solo l'anziano che ha firmato sia i bonifici bancari a favore dell'istituto travisiano sia i versamenti alla posta sarebbe stato accompagnato nei vari uffici della suora e dai sacerdote i due avrebbero secondo l'accusa compiuto frequenti viaggi da Pieve di Soligo proprio con l'intenzione di accompagnare l'ottantenne a versargli i soldi per cui è molto pesante la faccenda non è semplicemente una cosa interpretabile cioè un'interpretazione cioè ci sono delle azioni reali che hanno fatto anche come pressione sulla persona anziana per cui la cosa assume ancora un carattere di maggiore gravità ebbene non c'è nessuna differenza fra preti e lavanda marchi della televisione e i vari maghi della televisione ripeto non esiste nessuna differenza le due cose camminano assieme anche se gli articoli per lavanda marchi saranno il doppio più grandi di quelli dei confronti dei preti questa è una questione del giornale vi ricordo che la tribuna di Treviso noi abbiamo già fatto delle lettere alle procure delle repubbliche e siamo sempre in attesa che le procure si muovono chiaramente se le procure della Repubblica di Venezia di Padova e di Treviso non si muoveranno in merito e non avremo notizie in merito le prossime lettere saranno al Consiglio Superiore della Magistratura al Ministro della Giustizia e al Presidente della Repubblica non c'è problema in questo paese scrivere lettere è un dovere di ogni cittadino cioè informare l'autorità che esistono delle situazioni conflittuali all'interno del sistema sociale è il dovere di un cittadino dopodiché è il dovere dell'autorità intervenire nelle situazioni conflittuali qualora si identifichi un reato noi siamo pronti a protestare bene un altro articolo che aveva mandato sempre un amico in internet ed era quindicenne picchiata perché è araba una marocchina a Vicenza dopo l'attacco sarebbe stata picchiata perché è araba la vicenda su cui dovrà probabilmente far chiarezza l'autorità giudiziaria riguarda una giovane di origine marocchina studentessa in un istituto tecnico di Vicenza secondo quanto ha raccontato la giovane dopo l'11 settembre alcuni compagni avrebbero cominciato a prenderla in giro per via della sua religione e per l'abitudine di portare il velo il padre si era rivolto alla scuola ed era stato attuato un intervento educativo fra i genitori è una situazione di degenerazione del sistema sociale che non è la degenerazione di sti fioi che non sa dove andare ma è la degenerazione delle strutture sociali che non sanno dare un futuro non sanno costruire un futuro non sanno dare gli input alle persone e queste persone anziché cogliere da dentro di loro la forza con cui relazionarsi nel mondo praticamente si affidano alla televisione che a seconda di come vuole gli fa fare tutto quello che vuole è sufficiente che il popolo X e il popolo Y siano in guerra oppure ci sia una formazione chiamare quelli di un lato terroristi e quelli dell'altro lato polizia e cambia l'atteggiamento delle persone davanti alla cosa assolutamente cioè la televisione ha la capacità di afferrare l'attenzione delle persone e di muoverla come loro vogliono l'unico modo che hanno le persone per non farsi manipolare la propria attenzione è chiamare le cose con il loro vero nome e cogliere da se stesso da se stesse la forza che hanno nell'affrontare la vita allora io do via alle telefonate vi ricordo che i numeri di radiogamma sono 049 600 700 e 049 700 838 però visto che siamo qui andiamo avanti anche con la segna stampa pronto sì ciao sono Marco Girotto oltreviso dimmi ciao si può alzare un po' la radio per sentire non sento niente e adesso adesso sì perfetto grazie ciao ti volevo ringraziare per il tuo lavoro che stai facendo perché come posso dire i ragionamenti non fanno una grinza che veramente sei molto in gamba e per quanto riguarda per quanto riguarda il discorso che stai appena adesso facendo sulla televisione no è mio parere che le persone si comportino come dei cervi che vedono nella strada arrivare un'auto con i fari e sono impressionati da questi fari al punto che stanno fermi e subiscono l'incidente perché hanno proprio paura di questo senso della tragedia che porta che la televisione di fondo a largo raggio e rimangono fermi diciamo nelle loro case nel loro modo di essere abbagliati da questo senso della morte sì il mio parere è che questo è l'effetto della televisione tragica che stanno impostando su tutto il mondo eh sì è un effetto devastante che porta a mancanza di cultura come dicevi tu e il ragionamento non fa proprio una grinza che parte perfino dai bambini sì sì la cosa è molto preoccupante certo e ormai le persone che hanno coscienza di questo devono cominciare ad agire nell'ambito personale per diffondere questo modo diciamo per ritornare al nostro modo di vedere le cose come persone perché è una cosa devastante sì sì infatti è pericolosissimo questo è pericolosissimo certo e sono molto contento che ci sono delle persone come te che sviluppano questi discorsi per radio e mi fa molto piacere e spero che abbia più più risalto più bisogna bisogna fare una cosa anche più forte al limite di fare semplici denunce a carattere lo so si fa quello che si può noi siamo pochi e limitati no è vero che siamo pochi la gente si comincerà un po' alla volta a rendersi conto con i danni che ci stanno avverando nel mondo che tutti i problemi vengono da un certo modo di vedere di vivere la vita insomma speriamo vero ok lascia lo spazio d'arte grazie molto esercato effettivamente è il paragone del cervo è abbastanza calciante pronto? pronto buongiorno buongiorno sono Giulia dimmi che mi dici della FAO che hanno tutti quei miliardi e alla povera gente va soltanto il 13% e quella è legalizzata sai quella non le tocca mica a nessuno la FAO ricorda che la FAO è un organismo dell'ONU e come tutti gli organismi dell'ONU hanno delle regole da rispettare ma ce ne sono 150 ma non è importante cioè non concentrarti su questo cioè l'organismo dell'ONU deve funzionare come un'agenzia cioè come un'azienda quasi no? e ha delle di tutto eh sì certo ma guarda che c'è molta gente che non finanzia nella FAO eh ma è finanziata sì ma poca roba da tutti sì da quando fanno tutte quelle cose comunque quello che io voglio dire per i poveri nel mondo per la fama e nel mondo quello che io voglio dire ma guarda che quelli nessuno li tocca questo voglio farti capire sì ma è un'agenzia dell'ONU cioè un'agenzia internazionale sono d'accordo con te che ai poveri va meno roba niente non va niente va soltanto i stipendi capito? ecco e quelli sono legalizzati e allora sì sì ma deve essere così no non deve essere così allora guarda che che sono non so quanti dollari guarda una cifra esorbitante e sono gente che prendono 15-15 milioni al mese sì sì ma è normale è normale perché io a volte a volte non riesco trovo sempre ma avrei tante cose da dire che tu non hai neanche un'idea di quante cose avrei da dire di quante scandali ci sono sì sì ma guarda non hai l'idea va beh è come sulla giustizia che parla della giustizia guarda che questa questa è una trasmissione religiosa e faccio se no guarda Pisa Pia ha detto che quella legge non andava bene per i nostri oggi ciao ciao fiore vi ho detto che questa è una trasmissione religiosa eh allora quando scantoniamo troppo per quanto riguarda la FAO la FAO ho staccato i telefoni perché sto per chiudere la trasmissione sto per staccare i telefoni perché ho chiuso la trasmissione scusate allora quello che vi sto quello che vi voglio dire io è questo qua la FAO è un'agenzia dell'ONU come tutte le agenzie dell'ONU deve avere una struttura per funzionare quando voi date i soldi alla FAO in realtà la FAO è gestita dalle nazioni cioè sono le nazioni che danno i soldi alla FAO quando invece voi date i soldi alle singole organizzazioni ai cattolici questi prima devono costruirsi la loro organizzazione mantenersi l'organizzazione e dopo danno i poveri però l'organizzazione della FAO ha delle funzioni ehm delle funzioni istituzionali cioè nel senso che lei interviene per sopportare quelle situazioni situazioni specifiche perché fa parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite non è una cosa caritatevo che ti portano via i soldi perché tu li devi dare sono gli stati che finanziano la FAO e chiaramente gli stati decidono come usarla dove usarla e per quello che a loro serve per cui non è una questione di caritatevo della FAO è un'agenzia delle Nazioni Unite e per quanto riguarda la FAO come l'Unicef e le altre agenzie delle Nazioni Unite meritano tutto il rispetto di questo mondo perché perché effettivamente sono al di fuori di quello che è un gioco religioso però sono all'interno dei giochi politici indubbiamente essendo all'interno dei giochi politici però non comprano l'anima delle persone non costringono le persone in ginocchio ciao a tutti vi ricordo che sono Claudio Simeoni mio indirizzo è piazzale per mesanotto il numero l'indirizzo dell'istituto meritano sui politisti è casella postale 53 Marostica Vicenza io chiudo qui la trasmissione e vi do appuntamento per le ore 19 con la trasmissione di seconda parte della trasmissione Magia Stragonaria e Paganesimo io non so cosa abbia avuto questo telefono che ho buttato giù questa telefonata ma non ci sono riuscito a buttare giù del tutto io posso fare diversamente ma vi ricordo che questa è una trasmissione religiosa al massimo una trasmissione sociale con dei input sociali e non può scivolare negli aspetti politici perché non può essere specialmente gli aspetti partitici ciao a tutti e a risentirci a questa sera alle ore 19 ciao